Ciao, bentornate e bentornati. Oggi parliamo di matrici e di determinanti. Un determinante è un numero reale che si può associare a ogni matrice quadrata. Nella maggior parte dei libri di matematica, nei capitoli dedicati alle matrici, si illustrano le varie operazioni che si possono fare tra matrici e come calcolare i determinanti, ma poi non si spiega solitamente quali applicazioni possono essere fatte con questi nuovi strumenti. Ho così deciso di fare 5 video dove, senza tante pretese, faccio vedere 5 applicazioni pratiche dei determinanti. Il primo video è forse l'argomento più noto, ovvero il metodo di Kramer per risolvere i sistemi lineari. Nel secondo video vedremo come calcolare con i determinanti l'area di un triangolo note le coordinate dei vertici. Terzo video, retta passante per due punti, c'è una formula specifica per trovare la retta, ma non è semplice da ricordare. Vedremo un'altra formula che impiega i determinanti ed è molto semplice. Quarto video, molto importante, data l'equazione generale di una conica, con i determinanti si può capire, anzitutto, se una conica degenere o non degenere e poi se si tratta di una circonferenza, un ellisso, un iperbole o una parabola. Nel quinto video vediamo come calcolare il volume di parallelepipedi e tetraedri. Infine, se non ricordi come si calcola il determinante, puoi trovare sempre nella playlist il video col metodo di Sarus. A breve farò anche un altro video col metodo di Laplace che è più generale. Vediamo quindi come calcolare l'area di un triangolo note le coordinate dei vertici A, B e C. Allora, vediamo subito la formula per calcolare l'area, poi faremo un esempio e per concludere farò un cenno alla dimostrazione. Chiamiamo quindi xA e yA le coordinate di A e allo stesso modo xB e yB le coordinate di B e xC e yC le coordinate di C. Quindi l'area del triangolo è uguale a un mezzo per il valore assoluto del determinante della matrice 3x3 avente nella prima riga tutti 1, nella seconda riga tutte le ascisse e nella terza riga tutte le ordinate. Ad esempio, se vogliamo calcolare l'area del triangolo in figura che ha per vertici i punti meno 4 meno 2, meno 1 3 e 2 meno 1, allora l'area è uguale a un mezzo per il valore assoluto del determinante della matrice che ha 1, 1, 1 nella prima riga, meno 4 meno 1 2 nella seconda riga e meno 2 3 meno 1 nella terza riga. Col metodo di Sarus questo determinante si calcola facilmente, puoi trovare il video nella playlist. Il risultato è un mezzo per il valore assoluto di meno 27 che fa 13,5. Per verificare che il risultato sia giusto possiamo ricalcolare l'area del triangolo con un secondo metodo, un pochino più lungo ma semplice che non richiede l'utilizzo delle matrici. Quindi noi vogliamo calcolare l'area del triangolo in rosso, possiamo calcolare l'area del rettangolo circoscritto e poi togliere le tre aree dei triangoli T1, T2 e T3. Possiamo calcolare base e altezza di queste varie figure con la distanza tra due punti o semplicemente contando i quadretti e si vede che l'area del rettangolo è 5 per 6,30 e le aree dei tre triangoli che sono cateto per cateto diviso 2 sono 6, 7,5 e 3 e facendo la differenza si ottiene 13,5. E su questa verifica è proprio basata una delle possibili dimostrazioni della validità della formula. E si procede così, si lasciano i termini letterali per le coordinate dei vertici, si fa quindi questo calcolo più in generale con i termini letterali e si otterrà un certo sviluppo che ha come parametri la x di A, la y di A, la x di B, la y di B eccetera. Poi si calcola allo stesso modo il determinante che ho dato prima e si vede che si ottiene lo stesso risultato. Io ho terminato, ti lascio il link alla playlist su matrice determinanti e se il video ti è piaciuto metti un like e iscriviti al canale. Ciao e grazie.